ma io aspetto questa telefonata non lo capisco può essere che ci successe qualche cosa non lo so non lo so non lo so non lo so non ne capisco niente nei giornali allora diventeremo famosi mamma mia finalmente faremo successo allora facciamo un annagliare eccoci però non lo so 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 ne stanno cittando mi fai tutti insomma il saluto il sucio lo sentiamo va bene e qui questo è proprio fatto per la grina che è successo per la grina giurinale ne siamo una dovuta fa parlare a mia cacca né guai siamo ci tutti ma forse dice un giornalista alle volentime se e fa fare il daveture che è morto ma che vuole buongiorno ma sia cacere pellegrino ma è un giornalista perché siamo noi qua venuti al suo cospetto qual è il motivo? grazie